Penso di non aver mai chiesto una cosa del genere così in un mio video, però citerei che questo video lo si guardasse fino in fondo, magari, non so quanto verrà lungo adesso, però magari ha più riprese, magari con calma se non volete vederlo tutto di fila, però ci tengo davvero, perché secondo me è un video che può essere d'aiuto a molti e può comunque servire a chi magari vive delle situazioni ancora peggiori di quella che ho vissuto io in questi 5 mesi, ma anche qualcosina di più di... di... insomma, di questa situazione, ecco. Nonostante io abbia appena fatto un taglio, penso di non fare tagli in questo video, non ho un copione davanti, quello che mi verrà in mente da dire lo dirò, non è un problema. Allora, nel video di oggi io volevo parlare di una cosa che ho tenuto come tabù per tantissimo tempo sul canale, è che è stata la malattia, che no, fra virgolette no, perché è di base una malattia, che ho... che ho avuto per... fin da febbraio scorso, quindi per 8-9 mesi più o meno, giù di lì, e che è l'acne, che non è di per sé una malattia così grave, l'hanno avuta tutti durante il periodo dell'adolescenza ed è una cosa normalissima che si affronta normalmente, se non è un'acne grave come quella che è venuta a me, perché quella che è venuta a me è un'acne che da... da foglio, da ricetta, è un'acne severa grave ed è un'acne per la quale ho dovuto anche assumere dei farmaci che smetterò di assumere fra due giorni, voi vedrete questo video penso sabato, quindi forse avrò già smesso e... per l'appunto dovrò... ho dovuto assumere questi farmaci per 5 mesi perché farmaci normali non bastavano per mandarla via, ora io ho qua davanti la foto, lo screen di un video che ho fatto il... l'8 giugno, più o meno, giù di lì, ora non mi ricordo, che è forse il periodo peggiore in cui ho... in cui ho sofferto questa malattia e... per intenderci, io durante questo periodo non potevo dormire, avevo difficoltà serie a dormire, nel senso che non mi ricordo ora quale fosse la guancia, penso fosse questa, tra l'altro io vi farei notare anche questa che è la cicatrice che ha lasciato quel grandissimo coso che mi era venuto fuori e che non era un brufolo, era letteralmente una chiazza che appoggiarla sul cuscino mi provocava un dolore allucinante, io ho fatto 5 mesi a dormire malissimo, a dormire con la testa all'insù, a dormire in posizioni allucinanti per non stare male, per non soffrire, perché mi faceva davvero male la faccia e non riuscivo a... non potevo ricevere carezze in pratica, cioè chiunque mi avesse fatto così sulla faccia gli tiravo un cazzotto perché non... non riuscivo sostanzialmente ad avere contatto con queste parti delle guance, che poi sono state soprattutto queste il problema, perché spesso queste malattie, ovviamente mi sono informato, spesso vengono qua dietro sulla schiena e spesso anche sulle guance, di solito quella sulle guance è quella un po' più problematica perché comunque tende a... come si dice? ad essere più visibile e quindi collegandomi poi al discorso che voglio fare, ad essere più oggetto di prese in giro. Ora, io da quando ho avuto questo problema, che tra l'altro poi questi medicinali che ho preso sono stati sostitutivi all'antibiotico che ho preso da febbraio ad aprile circa e che non hanno avuto alcun effetto, ne ho cambiati due e hanno peggiorato la malattia, e sono passato a questo farmaco, che è un farmaco che tra i vari effetti collaterali ha anche l'effetto... che poi per fortuna, per fortuna non si sono presentati tutti e non si sono presentati più gravi, perché tra gli effetti collaterali c'era anche la depressione, che a me per fortuna non è venuta, non è per fortuna venuta, però ad esempio come potete vedere qua ragazzi, questa è secchezza dovuta alle medicina e in questo periodo è anche peggiorata, guardate le labbra, sono totalmente screpolate qua in fronte, sono disastrato e di solito gli occhi erano diciamo abbastanza secchi. Ho finalmente smesso di prendere questi medicinali, adesso ricomincerò a mettere della crema solare per evitare di far scomparire questo rossore che comunque mi è rimasto insieme alle cicatrici, sulle quali poi mi toccherà intervenire probabilmente con laser, perché per l'acne grave che ho avuto sono rimaste delle cicatrici abbastanza evidenti, oltre ovviamente a dei buchi nella pelle che passando la mano qua io sento tranquillamente, ma non è tanto quello il problema, il problema forse è il rossore che mi crea dei problemi. Cos'è successo in questi mesi, in questo anno quasi? Sì in questo anno perché forse le prese in giro riguardo al fatto dei brufoli hanno iniziato a venire fuori a novembre, hanno iniziato a venire fuori a novembre tra l'altro da degli youtuber, quindi insomma non da gente qualunque, da degli youtuber e dalla loro fanbase che ovviamente io qua non nomino perché non lo meritano, molti di voi sanno anche chi sono perché magari parlano con me, però intendo voi parlate con me, non gli youtuber, però ce non è importante, anzi se li nominate nei commenti rimuoverò tutto perché sinceramente non ci tengo a fare alcun tipo di pubblicità. E ovviamente poi la cosa è stata resa di dominio pubblico dall'evidenza in sostanza, quando a un certo punto la malattia si è fatta talmente evidente da non poterla nascondere, ovviamente da non poterla nascondere facendo video in facecam, io avrei potuto ragazzi sapete fare cosa? Smettere di fare video in facecam, ma non l'ho fatto, e non l'ho fatto proprio perché volevo arrivare a cinque mesi di distanza a poter fare questo video e a poter dire a voi ragazzi una cosa molto importante che vorrei che fosse il cardine di questo video. Voi dovete valutare attentamente chi è che vi prende per il culo, chi vi prende per il culo è superiore a voi? Ve lo dico io, no, non è superiore a voi e vi faccio vedere anche perché, perché chi mi scrive che ho la faccia di uno che è andato in Vietnam per dieci anni, poi è lo stesso che lavora su Facebook presso Aspetta ma io non ho un lavoro XD, per farvi capire, no, per farvi capire il concetto. Cioè, chi vi prende in giro? Chi vi creati di superiorità nei vostri confronti? È davvero superiore a voi? O forse è inferiore a voi e cerca in un qualche modo di farsi figo o comunque di attaccarvi per una cosa, diciamo, per una cosa particolare. Io l'ho sempre detto a quelli che mi prendevano in giro, che me lo facevano anche semplicemente notare. Questa è una malattia a tutti gli effetti ed è una malattia che nel mio caso è davvero, davvero grave, no, perché non posso definire che sia grave. Ci sono malattie molto più gravi, c'è il cancro, c'è, ce ne sono tantissime. Però comunque non era una cosa banale, perché io sono cinque mesi che mi metto prodotti e prendo pastiglie che potrebbero addirittura sfociare nella depressione. Se solo fossi stato propenso, se solo fossi stato propenso a quel tipo di malattia che è la depressione avrei potuto riscontrarla prendendo queste pastiglie. È stata una malattia, e probabilmente è tuttora, perché ancora non è scomparso del tutto, è stata una malattia che avrebbe potuto portare a delle conseguenze ben più gravi del semplice deturpamento della faccia, perché ragazzi, è inutile che io lo nasconda. Queste cicatrici mi rimarranno per sempre. Mi rimarranno per sempre e segneranno sicuramente il mio volto e tra l'altro, ironicamente, sono venute fuori in un periodo abbastanza brutto per me da un punto di vista personale e quasi ironicamente le consiglio le cicatrici di quel periodo, no? Perché io sono del parere che tutte le cose, tutte le cose che ci succedono, anche se superate, ci lasciano dei segni, che possono essere positivi, possono essere negativi. E questo quasi lo considero un simbolo di quel periodo, un simbolo che mi porterò sempre a prezzo, che comunque farà parte di un periodo brutto, che però mi ha insegnato davvero tanto, mi ha insegnato, oltre alle varie cose riguardo, strettamente collegato al periodo triste, che quindi mi hanno aiutato a migliorare, mi hanno, poi me ne sono accorto dopo, mi hanno aiutato a capire le persone che mi sono state vicine, le persone che mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato a trovare delle persone veramente fantastiche. I miei amici mai mi hanno fatto pesare questa cosa qua, anzi, quasi nessuno me l'ha mai fatta notare fuori dal contesto di YouTube. Solo i leoni da tastiera l'hanno fatto. I miei amici nessuno ha mai infierito sulla questione. In famiglia la situazione è stata trattata meglio, è stata trattata, non meglio, è stata trattata bene, anche se comunque ovviamente essendo un problema di salute mi è pesato da quel punto di vista, a volte mi è pesato e questo non lo posso negare. Ho trovato una ragazza veramente fantastica che saluto, nonostante per farvi capire quanto poco importi alle persone in realtà, ho trovato comunque una ragazza a cui voglio davvero tantissimo bene, che nonostante io avessi questo problema qua, non è importato nulla. E quindi per farvi capire quanto in realtà in generale alle persone, questo era un esempio in generale, per dirvi quanto in realtà alle persone, non freghi niente, non freghi niente di quello che avete voi. Il loro obiettivo quando magari vi prendono in giro è semplicemente quello di farvi stare male. Non frega niente a nessuno che voi abbiate i brufoli, non frega niente a nessuno che magari voi abbiate gli occhiali o che magari siete sovrappeso. E io queste cose ve le dico, non da sono venuto fuori adesso, perché io so che comunque non è che io abbia sofferto chissà quale bullismo durante questi cinque anni, però io alle scuole medie ne ho sofferto. E se non era bullismo era comunque tanta 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 emarginazione. Ed è una cosa che io purtroppo ho capito dopo questa, ossia che in realtà quelli che ci prendono in giro e quelli che ci fanno pesare magari qualche nostro piccolo difetto, che in realtà poi è veramente piccolo in confronto a tutte le cose belle che abbiamo, come per l'appunto in realtà a queste persone non freghi niente di quella cosa lì, frega solo di farti del male. Poi ovviamente ragazzi ci sono i casi, c'è il ragazzino che vabbè ci può stare e magari è stupido, non si rende conto o è solo maleducato e poi magari il problema si presenta in realtà quando a fare queste cose qua è gente di 19, 20 anni, 21 anni che ti dicono queste cose qua e che potrebbero potenzialmente avere un figlio e che votano per il nostro paese e dalle quali io mi dissocio totalmente essendo comunque più o meno la mia generazione e che veramente schifo con tutto il mio cuore perché sinceramente certe cose le puoi fare quando hai 13, 14, 15 anni se sei particolarmente deficitario ma quando hai 19 anni ti svegli e quindi secondo me questa cosa qua è veramente assurda che mi sia successa ma... questo è un taglio. tralasciando questa digressione lo so ragazzi non ho un copione sto dicendo cose molto a vanvera però ci tengo comunque a questo video tralasciando per l'appunto questo punto un bel gioco di parole quello che volevo dirvi in realtà sostanzialmente è che non vi preoccupate dei vostri difetti perché a nessuno frega niente dei vostri difetti in sé a qualcuno potrà fregare di crearvi del male qua dentro a crearvi del male nel cervello ma questa cosa qua vi deve far capire che forse queste persone sono poco contente di loro sono poco contente di loro sono persone stupide e sono poco contente di quello che hanno loro e si devono attaccare per forza a chi magari è diverso a chi magari ha quel difetto evidente nel mio caso era molto evidente ma magari anche a sciocchezze capito a banalità magari ad avere due chili di troppo perché secondo voi le persone vanno in anoressia? perché sicuramente arriva il deficiente di turno che dice alla povera ragazza eh guarda sei sovrappeso e guarda di qua e invece non ve ne deve fregare niente perché a nessuno fotte un cazzo di come siete all'apparenza a nessuno frega niente tanto meno a quelli che vi prendono in giro alla gente frega solo di provare a farvi del male alla gente frega solo di provare piacere nel vedere gli altri magari succubi nel vedere gli altri o immaginare anche semplicemente gli altri che se la prendono per queste cose qua e ripeto io queste cose ve le sto dicendo da un ex ragazzino che ha subito comunque atti di emarginazione che sono stato preso in giro alle medie perché ero molto grosso e sono tuttora in realtà molto timido per fortuna ho incontrato delle persone con cui mi sono trovato davvero bene a partire dai miei amici fino ad arrivare alla mia ragazza e quello che volevo dirvi ragazzi è non vi nascondete non vi nascondete mostrateli i vostri difetti perché non frega niente a nessuno guardatevi allo specchio e dite questo difetto è perfetto perché è così che è ragazzi è così che è perché se noi non avessimo questi piccoli difetti se tutti noi se l'umanità non avesse il suo piccolo difetto probabilmente probabilmente saremmo già istinti da tempo questa cosa qua è fondamentale ragazzi io perché ho aumentato pensate li ho aumentati quando mi è venuto l'acne i video in facecam li ho aumentati proprio perché volevo trasmettere questo messaggio siate fieri di voi stessi con le vostre perfezioni e le vostre imperfezioni siate fieri perché poi se anche doveste essere presi in giro sappiate ragazzi che nella vita nella vita in generale tutto quanto torna tutto torna e non si parla di legge del taglione si parla del fatto che probabilmente e questa è una mia idea ma secondo me è particolarmente vera chi ha subito prese in giro per il suo aspetto chi in generale è stato emarginato e chi magari non ha mai legato molto con le altre persone per un certo carattere è la stessa persona che poi in futuro chi prima chi poi è la stessa persona che in futuro si legherà bene agli amici avrà dei rapporti veri e non rapporti falsi basati su minchia zio bro o robe del genere che non tradirà la sua ragazza che le vorrà bene che in generale sarà una brava persona tutto torna tutto torna e alla fine dei conti quando arriveremo alla fine della nostra vita perché tutti prima o poi schiattiamo si faranno i conti ragazzi e secondo me chi come noi è stato oggetto perché io so so che tra tantissimi dei miei iscritti c'è gente di questo tipo ci sono persone che magari su youtube trovano uno sfogo magari è una realtà che sembra non apprezzarli e io vi dico ragazzi che comunque qualsiasi cosa succede qualsiasi cosa vi dicano tra dieci anni tra cinque anni tra vent'anni tutto tornerà e magari vi ritroverete a comandare su queste persone e io ve lo posso assicurare perché io vedendo come sono conciati quelli che mi hanno bersagliato in generale per tutta la mia vita vi posso assicurare che io non sono una spanna sopra sono proprio un oceano sopra e questa cosa questo mio esempio ve lo porto proprio per cercare di farvi riflettere forse non sarà un esempio particolarmente incredibile perché comunque io sì avevo un canale dietro avevo dei fan avevo tante cose che comunque mi tiravano su magari alcune non ne hanno di queste cose ma se posso fare qualcosa nel mio piccolo lo faccio e siccome io questa cosa l'ho sentita molto e mi sono a volte anche sentito male perché magari ti accorgi di certe cose quando ne esci però magari mi sono sentito a volte un pochino male per questa storia del fatto di essere magari preso di mira anche se non l'ho mai dato a vedere effettivamente ho perso il filo del discorso vabbè in sostanza quello che volevo dire era siate fieri di voi stessi siate fieri di voi stessi e quando qualcuno cerca di imporre di imporre a voi stessi di non essere fieri di voi stessi sputategli sulle scarpe che tra dieci anni lo rifarete una seconda volta e sarà fantastico io ragazzi per questo video non vi chiedo assolutamente like so che arriveranno ma io non voglio dei like io vorrei vedere tantissimi commenti tantissimi commenti perché a questo video qua ovviamente non c'entra niente con pokemon e non ci tengo di essere conosciuto magari e di ricevere iscritti per questo video però magari ci tengo che commentiate in tantissimi e che magari mi parliate della vostra esperienza perché io sono qui per aiutarvi anche in un certo senso questo video l'ho fatto per aiutare certe persone perché sono molto empatico come ragazzo e so cosa si può provare a vivere certe situazioni anche magari del cyberbullismo citerei a vedere dei vostri commenti perché voglio davvero leggerli col cuore e magari rispondervi e darvi qualche consiglio o comunque magari non lo so creare una discussione insomma parlare e ci terei magari anche a vedere delle condivisioni se voi sapete che avete qualche amico che magari ha qualche problema di questo tipo provate a condividergli questo video vi ripeto non chiedo like non chiedo iscrizioni questo video è demonetizzato non me ne frega assolutamente niente però se io posso aiutare più persone possibili posso fare molto ma molto può essere fatto anche da voi e quindi vi chiedo questo un commento magari se volete condividendo la vostra esperienza e magari aiutarvi a vicenda anche nei commenti sarebbe una cosa molto bella e qualche condivisione con qualche vostro amico che magari ha la stessa situazione che magari può essere d'aiuto per lui e in generale per molte altre persone detto ciao ragazzi io spero di beccarci in un video magari più allegro di questo sicuramente succederà vorrei partire con poco in ultra sole poco in ultra luna se mi arrivasse la copia ma non mi arriva la copia vorrei fare qualche video magari tutorial o comunque qualche qualcosa divertente qualcosa di originale e nulla probabilmente da domani arriveranno dei video molto particolari e sicuramente molto più allegri di questo questo era semplicemente tra l'altro mi dispiace averlo fatto uscire proprio in questo periodo di ultra sole e ultra luna ma insomma ci stava era un momento simbolico io oggi sono andato dalla dermatologa e mi è stato detto che devo smettere con questa cura che mi ha comunque fra virgolette creato dei problemi di salute quindi per me era simbolico fare il video quest'oggi detto ciao ragazzi io vi ringrazio per la visione ringrazio chi ha visto il video fino adesso e nulla mi raccomando un commento una condivisione e nulla vi ringrazio davvero tutti non so neanche come concludere questo video comunque nulla vi si vuole bene raga tante persone vi vogliono bene sappiatelo grazie a tutti grazie a tutti